Protagonisti della prima tappa di Giovani Sì in tour con il presidente Eugenio Gianni sono giovani brillanti ricercatori che hanno usufruito delle borse di dottorato internazionale Pegaso promosse dalla regione toscana con Giovani Sì, il progetto nato nel 2011 per fornire strumenti per l'autonomia dei giovani. Le borse di studio nel periodo 2014-2020 sono state finanziate con il Fondo Sociale Europeo mentre per il 2021-2022 sono finanziate dalla regione toscana. Stamani abbiamo presentato quello che è l'obiettivo delle 77 borse di studio Pegaso, sono il frutto di uno stanziamento che per la prima volta la regione toscana ha voluto fare per puntare sui suoi giovani, ovvero 5 milioni di euro che in un bilancio disfrattato da tutto l'aumento delle spese sanitarie relative al Covid, comunque volevamo fare e che abbiamo destinato a borse di studio per giovani che possano dare un salto di qualità anche in termini di innovazione ai nostri sistemi produttivi, ai nostri prodotti, insomma puntare sulla ricerca. La prima tappa di Giovani Sì in tour è stata dedicata all'alta formazione ma Giovani Sì agisce anche negli ambiti dei tirocini, del servizio civile, del fare impresa, del lavoro e della casa. All'evento al teatro della compagnia hanno partecipato alcuni dottorandi che hanno raccontato le loro ricerche nei campi delle neuroscienze dell'industria 4.0 o dell'agricoltura smart. Dalle parole delle ragazze e dei ragazzi che in questi anni ne hanno beneficiato, ne stanno beneficiando, abbiamo potuto toccare con mano quanto questo intervento sia importante, fondamentale dal punto di vista della formazione ma poi anche per poter garantire a loro una maggiore e migliore occupazione e questo anche dal punto di vista di andare a implementare l'innovazione e la competitività anche delle nostre aziende, del nostro tessuto produttivo. Collegati dal remoto hanno assistito all'evento altri cento dottorandi e i rettori degli Atenei Toscani. Giovani Sì in tour è un format che ha l'obiettivo di raccontare il progetto per l'autonomia dei giovani attraverso le storie vere di chi ne ha beneficiato. Grazie a tutti.